Ciao Domenico, benvenuto su Chuck Generation. Ciao, ciao a tutti. Allora, tu sei giovanissimo, hai 19 anni, correggimi se sbaglio, ma hai già fatto una marea di esperienze in tv, insomma, hai lavorato già molto, è uscito la Gomorra, l'Amica Geniale, quindi progetti anche piuttosto importanti. A che età hai iniziato ad avvicinarti a questo mondo? A che età hai capito che la recitazione era la tua strada? Intorno all'età di 7 anni ho avuto il mio primo approccio con la ribalta, ma dopo il primo anno ho deciso di abbandonare perché non approcciai bene con i miei compagni alunni lì, quindi ho iniziato a fare sport, ho iniziato col karate, sono andato avanti e poi ho deciso di ritornare sulla strada del teatro. Intorno all'età degli 11 anni ho fatto la mia prima esperienza con Gomorra e poi dalla prima volta sul set mi sono innamorato di questo lavoro e ho continuato. E senti, ma quali sono i miti con cui tu sei cresciuto? Le tue fonti di ispirazione da ragazzo? Allora, io ho un grandissimo rapporto con la musica, nel senso che ha sempre occupato tutte le mie giornate e credo che lo farà per sempre. Per me uno dei più grandi è Michael Jackson e credo sia una personalità che mi ha sempre ispirato. Se parliamo di cinema a me piacciono i caratteristi, quindi credo che uno dei più grandi sia Gary Oldman, mi ha veramente cambiato. Johnny Depp mi piace molto come nuova generazione e ovviamente i mostri sagri come Brando e Robert De Niro e tutti gli altri. Parliamo di Mare Fuori perché tu interpreti Cardiotrap, quindi uno dei personaggi più amati anche della serie. Questa è stata una stagione particolarmente pesante per il tuo personaggio e anche quella sicuramente più difficile forse da girare per te. Troviamo infatti un Cardiotrap più spento, quasi senza più voglia di vivere, di andare avanti. Che lavoro hai fatto per entrare dentro questa nuova veste del tuo personaggio? Guarda, io sono uno che ricerca molto, quanta più verità. Lavoro molto con le reference, quindi scene di vita vissuta che cerco di trasportare davanti allo spettatore. Sono andato a cercare veramente persone che hanno vissuto un momento del genere nella vita, persone che erano arrivate a perdere tutto. Guardarle negli occhi e parlare di quei momenti mi faceva capire sempre di più e mi faceva sempre più scendere nelle profondità abissali del mio personaggio che è comunque un ragazzo che dall'inizio della sua storia non c'entra nulla con l'IPM del carcere e che da sempre lotta con un reato che non ha fatto, lottando sempre contro la violenza e in un certo modo il sistema gammorristico che c'è tenendosi sempre alla larga da tutte le cose, però arriviamo alla seconda stagione, al finale della seconda stagione con la morte di Fabio e quindi il compimento della misfatta di Cardiotrap. Alla fine Cardiotrap è diventato tutto ciò che odiava. Quest'anno Cardiotrap ha dovuto prendere anche una decisione molto importante perché ha scelto in qualche modo di rinunciare a Gemma, all'amore della sua vita anche se parliamo chiaramente di una vita molto breve per ora per permetterle in qualche modo di vivere autonomamente, serena al di fuori dell'IPM al suo posto avresti fatto una scelta simile? Io credo che avrei fatto esattamente la stessa scelta perché ci troviamo di fronte ad un ragazzino che ha appena confessato di aver fatto un omicidio quindi altri anni in un IPM potendo offrire nella vita poco e nulla se fossi stato nei suoi pagni avrei fatto praticamente la stessa cosa perché credo che la prima dimostrazione importante sia la protezione quindi lei prima di tutto. L'abbiamo già detto prima, è stata sicuramente la stagione più difficile per te ma qual è stata la scena in assoluto più difficile da girare? Innanzitutto ringrazio Ivan Silvestrini, regista della serie per avermi sempre dato la possibilità di improvvisare, di proporre su tutto quindi lo ringrazio. Credo che una delle scene più difficili sia stata quella della collutazione fra Micciarella e Cardiotrap perché c'erano tanti attori, era molto fisica fu una notte lunga e ci sono tante inquadrature toste fu veramente veramente dura dover fare la rissa diciamo più volte quindi Con le sue canzoni Cardiotrap ha anche toccato dei temi molto importanti anche dei temi di attualità come ad esempio la violenza sulle donne Volevo capire se tu hai ricevuto dei feedback da parte di persone che hanno vissuto delle situazioni simili a quelle che sono cantate da Gianni nella serie Certo, io ho avuto praticamente messaggi da mamme, figlie, fidanzate da praticamente un sacco di persone di fasce d'età diverse tra l'altro che avevano vissuto cose se non uguali anche peggiori di quelle che raccontiamo nella serie quindi la cosa che più mi ha fatto bene dal punto di vista artistico e male dal punto di vista umano è stata quello comunque di studiare e di scoprire situazioni sempre diverse Io ti dico la verità, rispondevo, parlavo con queste persone cercando il mio piccolo di aiutare in qualche modo e mi segnavo comunque tutte le cose che mi dicevano di atteggiamenti violenti oppure di cosa succedeva nell'inconscio di una persona che comunque ha subito queste violenze quindi queste cose mi servivano per accarezzare un po' la realtà dei fatti Parliamo un po' invece del futuro della serie perché ormai si sa Mare Fuori è stata confermata per una quarta stagione quindi andrà avanti probabilmente ancora a lungo visto il successo che ha Una teoria che sto leggendo molto spesso in giro è che ci sarà una nuova coppia nella prossima stagione e che è quella composta da Cardiotrappo e Crazy Jay questa sorta di attrazione tra opposti, no? Cosa ne pensi? Chiaramente so che non c'è ancora nulla al riguardo e comunque anche se sapessi non puoi dire nulla Ma cosa ne pensieresti? Parlo da spettatore Sicuramente è interessante vedere due opposti che si attraggono in questo momento perché comunque abbiamo scoperto che c'è stato l'agio del pezzo e tutto il resto quindi mi piacerebbe vedere una cosa del genere Sarà veramente figo se sarà così Se dovessi essere così, certo Ne stiamo parlando sempre per ipotesi Tu non sai nulla quindi ne sai quanto noi attualmente Un'altra teoria che ho letto sul web riguarda invece un po' la storia di Gianni, no? Che secondo molti è molto simile a quella di Liberato perché adesso sono andato un po' a leggere delle cose Lui nelle sue canzoni parla di un amore che non è mai un amore gioioso i concerti anche esattamente come Gianni canta con una felpa è andato in galera per aver difeso sua madre Cosa c'è di vero di questa teoria? Effettivamente c'è un'ispirazione alla storia di Liberato? Questa è una domanda che dobbiamo fare gli sceneggiatori nel senso che quello che io porto in scena è frutto delle loro menti Io sono però un grande fan di Liberato Sono veramente un estimatore e mi piace molto la sua musica A volte nelle scene di Cardiore ho ascoltato musiche, canzoni, opere di Liberato Io ci ho pensato in qualche scena Lo scorso febbraio hai avuto la possibilità di calcare il palco dell'Arisono insieme a molti dei tuoi colleghi Ti piacerebbe poter un giorno ritornare su quel palco ma non avesse diversa? Cioè proprio da concorrente? Visto anche la tua passione per la musica? No, nel senso che io ho una grande ammirazione per i cantanti ma non sono un cantante non sono abbastanza competente sono contento di guardare Sanremo e di applaudire a chi lo sa fare e chi è nato per questo Una domanda che sto facendo oramai è diventata anche un po' un piccolo cult se vogliamo a tutti gli attori di Marefuori che ho avuto la possibilità di intervistare nel corso di questi mesi è immaginiamo una versione americana di Marefuori quindi non a Napoli ma in un carcere, non so, di Los Angeles, Miami, ecco chi vedresti come attore, chiaramente tuo coetaneo, nei panni di Gianni? Io non lo so ho pensato subito ad un attore che amo e che stimo profondamente quindi mi farebbe molto piacere che fosse lui Gianni Cardiotrap e questo timotiscio alla mia Senti, io so che in questo momento tu sei sul set so che non puoi parlarne però sono uscite delle foto sul web parliamo del set di Un Professore 2 perché tu hai già fatto parte del cast della prima stagione con molta probabilità perché ci sono appunto delle foto che sono state scattate in questi giorni tornerai anche nella seconda e sei stato avvistato insieme a Nicolà Mopà un tuo collega anche in Marefuori secondo alcune teorie il personaggio di Mimmo potrebbe essere il nuovo interesse amoroso di Simone non puoi dire nulla immagino al riguardo ma cosa c'è di vero? qualcosa puoi dire? Ti posso dire una cosa vera per me credo che sarà una bellissima serie e diciamo hai anche un ruolo più attivo perché rispetto al passato dove le tue scene erano prevalentemente da solo quindi ti vedevamo mentre chiamavi il personaggio di Dante eccetera adesso avrai più interazioni immagino con il resto del cast chi lo sa, bisogna vedere hai avuto la possibilità di lavorare in Catch 22 che è una miniserie che è stata diretta da George Clooney intanto volevo capire come è stato lavorare in una produzione internazionale e se hai avuto dei contatti diretti o comunque dei consigli da parte di Clooney io sono stato veramente veramente grato di tutto quello che mi è capitato perché fu una cosa strana nel senso che per questo Catch 22 c'erano da fare tantissimi provini però io fui preso per il primo provino a Roma mi chiamarono per questo finto callback a Roma in realtà c'era George Clooney che voleva conoscermi gli era piaciuto il provino perché faceva una cosa che faceva ridere con la voce quindi piaceva questa cosa e me la voleva dire poi lui ha questo amore per i napoletani veramente veramente grande quindi a volte mi prendeva sul motorino mi faceva fare i giri del set con lui perché noi giravamo in Sardegna mi diceva tantissime cose riguardo questo lavoro mi diceva praticamente i piccoli segreti per fuggire dall'effimero di tutto questo mondo e mi diceva alla fine che l'umiltà e l'appartenenza la serenità, la spiritualità sono cose che comunque salvano mi consigliava sempre di rimanere me stesso e di non cambiare mai queste sono le cose che mi sono rimaste e mi rimarranno per sempre una bella esperienza immagino stupenda, stupenda effetti speciali che non avevo mai visto cose esplodevano ed era tutto vero animali veri quindi veramente è stato stupendo e se invece avessi la possibilità di seguire un corso di recitazione tenuto però da un attore famoso che sia vivente o anche che non c'è insomma più chi sceglieresti? bellissima domanda credo che comprerei un workshop di Meryl Streep giustamente scegli il massimo sì, assolutamente sì anche perché credo che le donne abbiano una marcia in più senti, qualche settimana fa una tua foto insieme a Jenna Ortega che adesso è proprio sulla Cresta dell'Onda appunto grazie a Mercoledì è diventata virale sui social volevo chiederti come è andato questo incontro e com'è lei dal vivo? è stato stupendo per me essere a Parigi ospite a quella sfilata ero dopo tanti anni a Parigi quindi anche ritornare lì è stato veramente bellissimo per me ti dico la verità io ho saputo subito prima della sfilata che ci fosse Gianna Ortega e sono impazzito completamente sono veramente uscito fuori di testa e quando l'ho vista ci siamo conosciuti e ci siamo detti giusto due parole perché comunque la portavano da una parte all'altra ci siamo fatti questa foto lei super gentile e niente ho subito postato il tutto per farlo vedere al mondo sono stato veramente felice di quell'incontro tu sei praticamente cresciuto sul set perché come hai detto prima hai debuttato da giovanissimo ripetendo un po' i tuoi lavori passati ti rendi conto di quanto tu sia cresciuto e nel caso in cosa in particolar modo i set televisivi che hai avuto la possibilità di frequentare ti hanno aiutato a cambiare personalmente proprio come persona? lo sento molto addosso questa cosa nel senso la crescita della mia vita personale rispetto a quanti set ho fatto e in che momento storico del tipo il primo mare fuori c'è stata la mia prima gita scolastica oppure secondo mare fuori la mia prima ragazza e tutte queste cose qua tu associ comunque quelle scene o comunque quel progetto a un qualcosa che ti è capitato perché tutto ciò che mi accade io lo porto sul set so benissimo quali sono le cose che mi hanno portato a fare delle scene ci vado subito a pensare quando guardo qualcosa io odio guardarmi perché sono molto ansioso non mi piaccio mai e cerco sempre il pelo nell'uovo quindi cerco di non farlo però quando mi capita ci penso la domanda con cui concludo sempre tutte le interviste che faccio è sempre la stessa e te la pongo anche a te qual è la tua serie tv preferita in assoluto? la mia serie tv preferita ti dirò quella che più ho visto quella che più veramente mi ha accompagnato nel tempo è How I Meet Your Mother e credo sia veramente una delle più belle che hanno mai fatto quindi e mi ha accompagnato in tantissimi momenti tosti e difficili quindi non può che essere lei saluto tutti i lettori di Jack Generation vi mando un grandissimo bacio grazie a tutti